Musica Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, i titoli. Dopo un weekend erovente nella nostra regione con pic di 40 gradi, le cose potrebbero cambiare da domani grazie all'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Emergenza Siccità, col diretti, parla di una situazione apocalittica. La richiesta è che se dovessero essere stanziati dei nuovi fondi, i primi a riceverli dovranno essere le aziende più colpite. Casomenza, al San Matteo, dopo lo stop alle indagini da parte della Commissione Sanità, i consiglieri che hanno fatto partire l'inchiesta non si arrendono e convocano i sindacati in comune. Omicidio di Gambolo, i RIS di Parma prenderanno parte alle indagini sul caso della morte di Thomas Mastrandrea, ucciso da un colpo di fucile sparato dall'85enne Giovanni Vezzoli. Via Libera, il progetto per il quadruplicamento della tratta Milano-Rogoredo-Pavia, che nella prima fase prevede un'estensione da Rogoredo fino a Pievemanuele. E dopo un weekend rovente nella nostra regione, le cose potrebbero cambiare già da domani con l'esperto meteorologo che abbiamo sentito, che ci ha rivelato che le piogge dovrebbero arrivare e le temperature dovrebbero ritornare a norma per il periodo in cui stiamo vivendo. Sentiamo. La notizia circola già da alcuni giorni, ma i meteorologi più attenti hanno atteso fino all'ultimo la conferma. Il caldo torrido che ci ha accompagnato nelle ultime due settimane con il suo bagaglio di notti insonni e temperature da record sarebbe ormai agli sgoccioli grazie a un affondo di aria fresca dal nord Europa che dovrebbe portare temporali e temperature più consone all'estate italiane, seppur comunque lievemente oltre la media, a partire dalla notte fra lunedì e martedì. Non si tratterà dunque di una vera e propria rivoluzione del fresco, anzi, e d'altra parte, se fosse così, si tratterebbe di un'altra anomalia in questa fase dell'anno, ma di un ritorno a valori soprattutto minimi, più sopportabili, ben più bassi, insomma, di quelli registrati fin qui, come quello di domenica mattina a Pavia presso la stazione del centro meteo Lombardo di Cascina Pelizza, dove la minima ha sfiorato i 26 gradi, 25.8 per la precisione. Quanto alla pioggia, gli esperti mettono in guardia, non è possibile parlare di una perturbazione organizzata, per esempio come quelle di stampa autunnale, ma di temporali che nel corso della settimana potrebbero colpire un po' ovunque nel nord Italia, soprattutto sulle Alpi, ma anche in pianura, in particolare anche nelle province di Milano e Pavia, la cui localizzazione e intensità sono però pressoché impossibili da prevedere. Le piogge, che dunque ci saranno e saranno tuttavia a carattere temporalesco, tipicamente estive, insomma, e non aiuteranno a colmare il deficit idrico accumulato durante l'inverno e la primavera. Oggi pomeriggio abbiamo avuto una delle giornate più calde e finalmente abbiamo un meritato ritorno, a qualche cosa di più normale, a un'estate diciamo più vivibile e questo avverrà a colpi di temporali che avranno l'occasione di sfogarsi a già partire dalla serata, notte, tra lunedì e martedì, poi ancora in modo forse più esteso e intenso tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì. Sarà interessata anche la provincia di Pavia e l'Oltrepo Pavese da queste precipitazioni? Logicamente i temporali non si possono prevedere di per sé al centimetro, anzi invito quando si vede scritta con preoccupazione sulla propria città temporale con grandine a ignorare questo avviso delle applicazioni. Per quanto riguarda la siccità non potremmo farci molti in effetti in questa stagione. Abbiamo la possibilità purtroppo di, se va avanti così, di fare l'anno più secco storicamente. Cioè stiamo parlando di una quantità di precipitazioni da deserto del Nevada. Vorrei ringraziare il collega Gabriele Campagnoli che si occupa della parte statistica. Dall'emergenza caldo all'emergenza siccità, strettamente connesse tra loro, secondo Coldiretti la situazione in questo momento è apocalittica e fa un appello al governo se dovessero arrivare dei nuovi fondi dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza per la nostra regione, questi fondi dovrebbero arrivare e andare alle aziende più colpite. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, lo aveva confermato alcuni giorni fa. Ci sarà acqua per l'agricoltura solo fino al 25 luglio. Quella data è arrivata e nel Pavese, come in altre province, la situazione continua a peggiorare. Gli agricoltori sono costretti ad assistere impotenti, ai ruscelli che si prosciugano sempre più, ai campi secchi e aridi e alle piante che muoiono. In tanti guardano al cielo, sperando in un po' di pioggia, ma se dovessero arrivare forti i temporali, la situazione non migliorerebbe, dato che i terreni ora non riescono ad assorbire velocemente l'acqua e crescerebbero quindi i rischi di frane e smottamenti. La situazione è che l'acqua continua a diminuire giorno per giorno, perché non sono previste precipitazioni e comunque tutti gli invasi stanno defluendo sempre minor acqua, quindi nel Pavese arriva sempre un minore risorse idriche e di conseguenza tutte le culture stanno aumentando le loro perdite e le loro sofferenze. Questo comporterà sicuramente una diminuzione del raccolto e dei grandi problemi per le aziende agricole dal punto di vista economico. Nei giorni scorsi si sono verificati anche diversi incendi che in alcuni casi hanno toccato anche zone coltivate, l'ennesimo duro colpo a un settore già in ginocchio. Le stime dei danni continuano a salire e col diretti parla ormai di una situazione apocalittica. Più del 30% del raccolto di riso in Lomellina viene già dato per perso e inoltre po'. Si sta cercando di quantificare l'impatto della crisi idrica sui vigneti e sulle coltivazioni di alberi da frutto. Abbiamo delle grosse difficoltà ormai apocalittiche, perché ormai la percentuale di perdita del raccolto almeno sul riso supera ormai il 30%, completamente in zone completamente compromesse. Sul mais, mentre le trinciature sono iniziate prima del previsto per salvare il salvabile e adesso stiamo verificando quello che sta succedendo in collina per quanto concerne la parte vitivinicola. Comunque una situazione sicuramente in peggioramento. Il governo ha già riconosciuto lo stato di emergenza per la Lombardia con un primo stanziamento di 9 milioni di euro, ma si attende ancora il nome del commissario e la crisi politica che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi non aiuterà di certo a velocizzare l'iter. L'aggiunta regionale non esclude di poter chiedere anche lo stato di calamità in caso di danni estremi ai raccolti, ma da col diretti arriva un appello. Se dovessero venire stanziati nuovi fondi, devono venire aiutate le aziende più colpite sulla base di stime precise. Almeno che vengono quantificati i danni a sua azienda per azienda e non che ci siano degli aiuti a random su tutto il settore, ma che vengono aiutate le aziende che hanno sostenuto la maggior parte dei costi e non copriranno niente, neanche le coste di produzione per via della mancanza di raccolto che non ci sarà nell'autunno prossimo. Torniamo a parlarvi del caso Menzi al San Matteo di Pavia perché dopo che lo stop alle indagini da parte della Commissione Sanità, i consiglieri che hanno fatto partire l'indagine hanno deciso di convocare i principali sindacati nella sede del Comune. Nonostante lo stop ai lavori imposti dal segretario comunale, proseguono le indagini politiche a Palazzo Mezzabarba sul caso del cibo scadente al Policlinico San Matteo, un dibattito che si trascina ormai da alcuni mesi e che si arricchisce in queste ore di un nuovo capitolo. Il vicepresidente della Commissione di Garanzia, Gennaro Gallo, ed il presidente della Commissione Sanità, Lidia Decembrino, hanno infatti invitato i sindacati ad un incontro informale in comune. La riunione si terrà giovedì 28 luglio alle 18.30 a Palazzo Mezzabarba e la convocazione è stata inoltrata a CGL, CISL, UIL e FIALS. La volontà dei consiglieri comunali di maggioranza di fare chiarezza sui problemi relativi alla qualità del cibo fornito a pazienti e dipendenti del Policlinico. Un'indagine politica fatta partire nei mesi scorsi da Gennaro Gallo, in qualità di vicepresidente della Commissione di Garanzia. Il passo successivo, ovvero la trasmissione degli atti alla più idonea Commissione Sanità, presieduta da Lidia Decembrino, è stata però stoppata dalla Segreteria Generale del Comune di Pavia. Non spetterebbe infatti alla politica occuparsi del caso Mense al San Matteo. Un brusco ed inaspettato stop per Gallo e Decembrino, che però hanno deciso di non fermare i lavori. Del resto, le segnalazioni raccolte negli ultimi mesi non possono essere lasciate cadere nel vuoto. Per questo, in attesa di capire come poter portare avanti in modo formale questa battaglia politica, i due consiglieri comunali hanno optato per una prima ricognizione con i sindacati, un momento di ascolto e confronto per non spegnere la luce sul problema. Adesso apriamo una lunga pagina di cronaca e ritorniamo sul caso dell'omicidio di Gambolò perché i RIS di Parma prenderanno parte alle indagini per capire qual è stato il movente definitivo del delitto. Anche gli esperti del RIS di Parma si occuperanno del delitto di Gambolò. La procura di Pavia, nelle scorse ore, ha affidato accertamenti tecnici irripetibili agli uomini del reparto investigazioni scientifiche dell'arma dei carabinieri che dovranno stabilire la balistica dei colpi di fucile esplosi da Giovanni Vezzoli. In sostanza, gli esperti dovranno fare chiarezza sulla posizione e sulla distanza esatta da cui Vezzoli, il pensionato di 85 anni, ha sparato a Thomas Mastrandrea. Secondo i primi accertamenti, i due colpi di fucile sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata, circa 7 metri, al termine di un litigio tra i due uomini. Mastrandrea pretendeva che la madre, che lavorava come vadante all'interno della villetta, prendendosi cura soprattutto della figlia disabile di Vezzoli, venisse assunta con un regolare contratto di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'anziano ha sparato al 42enne, mentre quest'ultimo stava caricando in auto le valigie della madre, una circostanza che stride con l'ipotesi della legittima difesa. Vezzoli, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, dal giorno dell'omicidio si trova in carcere a Pavia, in attesa di capire se gli verranno concessi gli arresti domiciliari. I familiari di Mastrandrea auspicano che, una volta terminati gli accertamenti, la procura del capoluogo possa dare il via libera al funerale. Dal giorno del delitto sono passati infatti quasi due mesi. Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto a due chilometri da Menconico, lo comunica all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è avvenuto questa mattina alle 8.26 e la scossa è avvenuta ad una profondità di 11 chilometri. E' stato truffato un titolare di un'azienda agricola che aveva venduto 6.000 bottiglie di vino costose a un cliente francese, il quale però non ha mai effettuato il pagamento. Una truffa da 70.000 euro. Ha spedito 6.000 costose bottiglie in Francia ma il vino è sparito e del pagamento non ha più saputo nulla, anzi quando ha scritto al presunto cliente che fine avesse fatto il suo denaro, quello per tutta risposta gli avrebbe chiesto altri soldi per sbloccare il pagamento. Per questo il titolare di un'azienda agricola dell'Oltrepo ha deciso di sporgere denuncia contro i gnoti e i carabinieri. E' accaduto nei giorni scorsi, del resto il valore totale della merce si aggirava sui 70.000 euro. Secondo quanto si sa, la cantina avrebbe ricevuto un ordine da una presunta società con sede in Francia per 6.000 bottiglie ai primi di luglio. Dopo l'accettazione, in azienda si è presentato un corriere per ritirare la merce. Sembrava tutto regolare, il pagamento era atteso dopo pochi giorni. Ma mentre le bottiglie risultavano regolarmente giunte a destinazione presso una logistica di La Courneuve, a una manciata di chilometri a nord di Parigi, del pagamento non c'era traccia. L'imprenditore avrebbe quindi iscritto alla società, ma per tutta risposta si sarebbe visto chiedere altri 1.000 euro per sbloccare il pagamento. Sentendo puzza di bruciato, l'uomo non ha pagato, decidendo invece di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Intanto però il vino consegnato a Parigi era stato ritirato da qualcuno. Da chi e a che titolo e a quanto dovranno chiarire gli investigatori con le indagini appena avviate. Un uomo di 75 anni, pensionato e incensurato, è stato denunciato dai carabinieri per aver sporcato la pista ciclabile che da Gravellona Lomelina porta a San Zeno, nel Pavese. Per lui è scattata appunto la denuncia. Sentiamo. Forse pensava di farla franca e ha deciso di manifestare il suo disappunto, commettendo un gesto sinceramente inspiegabile. Un pensionato di 75 anni di Gravellona Lomelina, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L'uomo, per due notti di seguito, ha rovinato con una bomboletta spray i disegni che i volontari dell'associazione ricreando avevano realizzato sul manto della pista ciclabile del paese, in liberali, la strada che porta da Gravellona a San Zeno. Opere che gli stessi artisti avevano filmato, pubblicando poi i video sui social network. Nell'idea dei volontari, la pista ciclabile sarebbe diventata un luogo per far giocare i bimbi e farli conoscere i giochi di una volta e, per gli adulti, un ricordo della loro infanzia. Il pensionato, però, era entrato in azione non appena i disegni erano stati completati. Per due notti aveva imbrattato la ciclabile con alcune scritte, ma era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona e quindi identificato. Ai carabinieri, il 75enne ha spiegato di averlo fatto, perché non è d'accordo con quanto sta facendo il sindaco del paese, Luciano Garza. Una motivazione ai limiti dell'assurdo che non gli ha evitato ovviamente la denuncia a piedi libero. Si cambia strada il nuovo progetto per le donne che hanno subito violenza nella loro vita, ma non solo. Un progetto che serve anche all'integrazione delle giovani donne migranti che arrivano nel territorio pavese. È stato presentato nei giorni scorsi in comune il nuovo progetto dal nome Si cambia strada, un'iniziativa nata sull'emersione del fenomeno della violenza domestica, con particolare attenzione alle donne migranti ed anche al rafforzamento della collaborazione tra i presidi sanitari attivi sul territorio ed il centro antiviolenza liberamente di Pavia. Il progetto si sviluppa su due piani. Il primo riguarda la presa in carico delle donne migranti, persone che devono affrontare numerose difficoltà come la mancata conoscenza della lingua e delle norme e la dipendenza dal maltrattante. Allora, questo progetto credo che sia un progetto molto interessante. A livello territoriale per noi è importantissimo come cooperativa liberamente. È importantissimo perché è un progetto che si suddivide in due linee, quindi due ambiti di intervento. Un primo riguarda le donne migranti, quindi i percorsi d'accoglienza e la presa in carico delle donne migranti, ma poi con tutta una serie di interventi proprio per facilitare l'integrazione sul territorio. Altrettanto importante, come ricordato dal centro antiviolenza di Pavia, è il rafforzamento della collaborazione e della sinergia tra il centro stesso ed i presidi sanitari territoriali per implementare la competenza in tema di maltrattamenti in famiglia da parte degli operatori sanitari. Importante inoltre è intercettare le donne vittime di abusi nei contesti sanitari. Il secondo ambito di intervento riguarda la linea sanitaria e prevede il coinvolgimento come aderenti dell'Istituto Maugeri-Irx, Maugeri-Mondino-Irx, 118. E il coinvolgimento di questi soggetti aderenti è stato per noi fondamentale, lo riteniamo fondamentale perché sono luoghi deputati all'intercettazione, perché molto spesso il sanitario è il primo operatore che entra in contatto con la donna vittima di violenza. Si tratta di un passaggio fondamentale fornito in questo ambito di intervento. La violenza nei confronti delle donne, in tutte le sue forme, rappresenta una delle principali cause di mortalità e disabilità tra i soggetti di sesso femminile, con un impatto sulla salute a breve e lungo termine. Ed è necessario proprio che ci sia una implementazione della rete territoriale che faciliti sia l'intercettazione da una parte, la formazione degli operatori sanitari sul tema della violenza di genere e l'implementazione proprio di linee guida all'interno dei presidi ospedalieri e del centro antiviolenza di Pavia per agevolare il più possibile la presa in carico e quella che noi chiediamo poi il processo di autodeterminazione delle donne. Regione Lombardia ha dato il via libera al progetto per il quadruplicamento della tratta Milano-Rogoredo-Pavia che nella prima fase prevede un'estensione da Milano-Rogoredo fino a Pieve Emanuele. Il progetto di quadruplicamento ha un'estensione di 28,6 km. L'intervento è suddiviso in due fasi funzionali, il quadruplicamento della tratta da Milano-Rogoredo a Pieve Emanuele per circa 11 km e il quadruplicamento della tratta da Pieve Emanuele a Pavia per circa 17 km. L'opera ha un costo totale di 900 milioni di euro, di cui 264,50 milioni di euro per la prima fase. L'assessorato regionale alle infrastrutture ha evidenziato che il potenziamento della linea Milano-Pavia è fondamentale per incrementare efficienza e regolarità del servizio perché consentirà di separare le diverse tipologie di trasporto ferroviario, da una parte treni suburbani e regionali, dall'altra treni interregionali e a lunga percorrenza e treni merci. La Giunta Comunale di Pavia invece ha approvato la misura dei parcheggi gratuiti, ovviamente quelli di proprietà di ASM Pavia per tutto il mese di agosto. Una misura che era stata parzialmente modificata nel corso degli ultimi anni dettati dalla pandemia. I parcheggi gratuiti tornano a Pavia per tutto il prossimo mese di agosto. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta di Palazzo Mezzabarba ha adottato ufficialmente la misura, pensata per agevolare gli spostamenti dei tanti cittadini che resteranno a Pavia per tutta l'estate. Un modo dunque per provare a rilanciare le attività del centro storico, ma anche per favorire i residenti del capoluogo nell'utilizzo dei servizi. L'ordinanza però, va ricordato, riguarda solo ed esclusivamente i parcheggi gestiti direttamente da ASM Pavia. Il posteggio gratuito non comprende dunque gli stagli della sosta gestiti invece dai privati. Entrando nello specifico, restano quindi escluse dall'iniziativa le strisce blu gestite da APCOA, in via le Cesare Battisti, via le Trieste, via Monti, via Filzi e il piazzale del Collegio Ghislieri. Oltre a questi posteggi sarà necessario pagare negli stagli gestiti dalla cooperativa Posteggiatori Auto Pavia, in piazzale Ponte Ticino. Da ricordare infine l'area privata al Ticinello e il parcheggio del Policlinico San Matteo. Sulla gestione della sosta, l'amministrazione comunale sta lavorando ad un nuovo progetto, visto che il contratto di servizio con l'azienda di via Donegani è scaduto. Universitari provenienti da Padova arrivano inoltre po' per studiare i vini. Gli studenti del corso di comunicazione dell'enogastronomia dell'Università di Padova sono tornati inoltre po' per studiare una terra detta degli esperti ancora piena di potenzialità inespresse. Il progetto, giunto al secondo anno e a cui ha preso parte anche il locale consorzio di tutela dei vini, ha visto una dozzina dei 150 studenti iscritti al corso visitare sei cantine sparse su tutto il territorio per approfondirne la storia e studiarne la possibile evoluzione in termini di marketing e sviluppo. I studenti sono una dozzina che fanno parte di 150 immatricolati nel corso di studi, selezionati a seguito dei workshop che abbiamo fatto e per consentir loro di vivere un'esperienza diretta in un territorio che molti non conoscevano e che effettivamente stanno scoprendo con grande piacere. Questo è il secondo anno di un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso con l'Università di Padova. Io ho tenuto il primo anno un seminario, quest'anno tre, dove la caratteristica era far conoscere le aziende agli studenti. Quindi avevamo delle lezioni in cui i produttori erano collegati via Zoom, assaggiavamo i loro vini in aula e io e gli studenti intervistavamo i produttori in modo da farglieli conoscere e poi ogni studente faceva un lavoro su un produttore nello specifico e i migliori come premio avevano la possibilità di venire a conoscere due giorni l'Oltre Popavese e i produttori di cui hanno raccontato la storia. Abbiamo fatto sei cantine l'anno scorso e sei cantine quest'anno, chiaramente cambiandole e io ho cercato di individuare nelle sei cantine la rappresentatività massima delle tipologie dei vini più importanti dell'Oltre Popavese. Quindi avevamo dei metodi classici, avevamo della Bonarda, avevamo della Sangue di Giuda, avevamo del Buttafuoco, avevamo del Pino Nero. Quindi la scelta delle cantine è stata fatta sulla base del loro vino più significativo fra le categorie che mi interessava far raccontare. E con questo è tutto, io vi ricordo l'appuntamento questa sera con il meglio della stagione di Orizzonti con Claudio Micalizio. Vi auguro una buona serata.